Eccoci ragazzi anche oggi facciamo il giro di ruota per gli iscritti che ce n'è solo uno flame e andiamo madonna io dimentico sempre di mutare ragazzi la scheda niente per flame andiamo con i giri di ruota premium one day Allora giri per gli arno primo giro per gli arno che ha fatto l'abbonamento lo ringraziamo come sempre ragazzi vediamo se riesce a portarsi a casa qualche regalino secondo giro per gli arno partita andiamo con il terzo giro per gli arno partita e andiamo con il quarto giro per gli arno Vediamo se oggi qualcuno ragazzi si porta a casa i suoi giri di ruotina andiamo con il giro per one day come sempre franci mi ha detto di non fare i suoi giri andiamo poi con il giro di snake e poi manca l'ultimo giro di salamino del salamino Per il momento ragazzi gli arno wand e snake si sono presi i loro partitelle ultimo giro per salamino ragazzi come sempre i giri di ruota sono registrati in maniera trasparente E si è vinto una bella partitozza quindi quattro belle partite per gli arno una per wand e una per snake e una per il salamino Let's go Let's go